Buonasera a tutti con il terzo appuntamento del mercato targato mondo Napoli eh questa finestra di mercato che analizzeremo insieme tutte le sere sul nostro sulla nostra pagina mondo Napoli Channel per analizzare quelli che sono i movimenti del Napoli e movimenti del Napoli che vanno a rilento così come quelli degli altri club perché comunque viveremo un mercato difficile un mercato eh di povertà potremmo definirli in quanto comunque la situazione Covid ha gravato e non poco sul sulle casse dei dei vari club e anche sulle casse del 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 Napoli. Lo stesso Cristiano Giuntoli prima della gara tra tra Napoli e Spezia, gara sfortunata dove il Napoli ha perso in malo modo per per due a uno ha detto che è un mercato che si baserà soprattutto su quelle che sono le uscite eh del Napoli e in particolare l'uscita di lui Arek Milik che vedete qui al trenta per cento insieme a Fernando Diorente all'interno del nostro borsino borsino che trovate aggiornato sulla nostra app H ventiquattro e sarà proprio Milik eh l'uomo il polacco l'uomo mercato del Napoli perché dalla sua uscita e dall'ingresso eh magari di una dozzina di milioni di milioni sappiamo che Aurelio De Laurentiis vorrebbe eh monetizzare almeno quindici milioni molto sarà molto difficile ricavare quei soldi ma è un'offerta intorno ai dieci dodici milioni potrebbe essere ben accettata da Napoli e da lui che passa il il mercato azzurro perché dalla sua cessione Napoli potrebbe monetizzare innegabile come leggere dal borsino anche l'uscita dei dei due terzini ma qui è Goulam eh perché il Napoli dovrebbe andare a fare un colpo proprio in quella zona di campo in entrata proprio su su Malqui dobbiamo dire che eh questo oggi c'è stato una sorta di mezzo approccio da parte della Fiorentina che però ha chiesto il calciatore in prestito gratuito fino alla prossima finestra di gennaio duemila e ventidue una situazione che ad oggi al Napoli convince poco perché vorrebbe cedere a titolo definito definitivo il il franco algerino non ci resta che attendere i sviluppi delle delle prossime giornate quindi mercato di Napoli bloccato proprio perché bloccate sono le uscite lo stesso Fernando Diorente che troviamo qui con il 30 per cento si parlava di un possibile ritorno alla Juve ma in realtà la Juve pare essere molto vicina invece al ritorno di Fabio Guagliarella e quindi questo potrebbe chiudere definitivamente l'approto di Diorente alla Juventus ma su Diorente Napoli sta comunque facendo delle riflessioni Mertens infortunato eh Osimèn col covid è ancora non al cento per cento per l'infortunio alla spalla eh il solo Petagna eh diciamo a condurre l'attacco azzurro potrebbe essere quindi importante trattenere Diorente quindi per questi motivi qua si presume che Diorente potrebbe uscire semmai uscisse solamente alla fine del mercato tra l'altro Diorente non porterebbe eh tra virgolette guadagni a Napoli in quanto la sua uscita essendo il suo contratto di scadenza a gennaio molto probabilmente sarà un'uscita a zero giusto per liberarsi dall'oneroso ingaggio di due milioni e mezzo. In entrata ci sono delle notizie positive soprattutto dal fronte Veruna infatti quest'oggi eh pare ci sia stato un affondo importante del Napoli eh per Mattia Zaccagni trequartista esterno eh tuttocampista potremmo dire del Veruna che tanto sta facendo bene e tanto sta incantando con la con la maglia giallo-blu. Eh è stata è stato chiesto anche anche aggiunto lì un suo parere ha detto che è una situazione interessante ma che ce ne sono tante altre. A noi risulta però da oggi che c'è stato veramente un approccio concreto e molto probabilmente Napoli potrebbe fare questa operazione però che sarebbe un'operazione stile Petagna e Ramani quindi prendere e acquistare oggi Mattia Zaccagni per poi averlo direttamente a giugno e quindi lasciarlo in prestito gratuito a Veruna fino alla fine della stagione. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai quindici milioni sarebbe un'operazione interessante in quanto sarebbe messa a bilancio solamente a giugno e quindi Napoli si assicurerebbe già da ora un calciatore per giugno che tra l'altro nello scacchiere attuale del Napoli nel quattro due tre uno potrebbe essere molto interessante sia per sostituire il trequartista che ad oggi lo sta facendo zero rischi sia comunque per dare fiato ad insigne nel ruolo di esterno sinistro. Gli altri due nomi sono i due terzini sappiamo che il Napoli è carente proprio sui due terzini oggi notizie sui terzini non ce ne sono quindi non abbiamo notizie certe sappiamo che il nome sul tappino di giunto li resta comunque quello di Emerson Palmieri nonostante le difficoltà legate comunque all'ingaggio e legate comunque al trasferimento perché diciamo che il Chelsea certamente non è disposta a sminuire il valore del suo terzino. Detto questo vi ringraziamo per l'attenzione vi ricordiamo di seguirci sul nostro canale il mondo Napoli Channel attivate anche la campanella in modo che tutte le sere potrete ricevere quelli che sono gli aggiornamenti di mercato targato mondo Napoli. Buona serata a tutti.